La parete dell'intestino è una componente integrante della nostra salute ed è costruita in maniera molto intelligente. Noi abbiamo il nostro intestino, prendiamo adesso il colon, quindi la parte grande del nostro intestino. Se noi procediamo dall'interno dell'intestino verso l'esterno, abbiamo all'interno la massa fecale con tanti microrganismi. Poi tra i microrganismi e la parete abbiamo uno strato di muco costruito in particolare con una sostanza che si chiama mucina. Questa mucina è una molecola complessa che si aggrega in modo più morbido, diciamo più lasso, e lì abitano gli amici, i microrganismi del microbiota intestinale, quello che poi è il biofilm fisiologico. Poi questa mucina si aggrega in matasse più complesse e più strette, dove normalmente non abitano i batteri, nemmeno i nostri amici, che costituiscono quindi questa matassa, una separazione più netta, più precisa, tra l'ambiente dove vivono i batteri, seppur amici, e le cellule, i cosiddetti enterociti, che sono le cellule che rivestono la parete del colon. Queste cellule possiamo immaginarsi come una palizzata e ogni cellulina è molto adesa alle altre cellule con queste giunzioni serrate, tight junction. Qual è la loro funzione? Di essere una frontiera veramente selettiva per decidere chi e che cosa può passare, quindi sostanze nutrienti, aminoacidi, eccetera, e invece non molecole complesse o germi. Quando la mucina è lesa, o perché noi abbiamo delle enteriti, delle gastroenteriti, quindi delle infezioni dell'intestino, o perché abbiamo preso, assunto antibiotici che hanno alterato gravemente l'ecosistema, o perché abbiamo delle patologie di varia gravità, dalla sindrome dell'intestino irritabile al morbo di Crohn, alla colite ulcerosa, ecco che noi abbiamo una lesione di tutte queste strutture che progressivamente e normalmente difendono la frontiera intestinale. Abbiamo allora un'alterazione della mucina nella sua componente più lassa e soprattutto questa mucina viene alterata dalle forzeine e soprattutto dai mucopoli saccaridi prodotti dai biofilm, o nei biofilm patogeni, cioè dai nemici. Viene leso lo strato stretto della mucina e viene lesa l'epiteglio, gli enterociti, ed ecco che abbiamo i cosiddetti buchi, proprio dei fori, dei passaggi, delle soluzioni di continuità, si dice, che consentono il passaggio dei germi. Che cosa è stato scoperto? Che noi possiamo rinforzare la barriera di mucina con una sostanza che la imita molto bene di estrazione vegetale. Questa molecola si chiama xiloglucano, è estratta dal tamarindo e ha proprio questa proprietà di rivestire dall'interno e rinforzare la parete di mucina, così da ridurre i biofilm patogeni, riconsentire che il biofilm fisiologico riabiti lo strato vicino a quello denso di mucina e portare invece una maggiore eliminazione di germi nemici. Ecco che allora con una sostanza come lo xiloglucano, che è naturale, non interagisce con gli altri farmaci, non porta calorie all'organismo e rispetta quella che è la fisiologia, cioè la naturale funzione dell'intestino, noi abbiamo la possibilità di rinforzare la protezione, la barriera selettiva, in modo dinamico e andare così ad aiutare il nostro organismo a ridifendersi, a ripararsi e a permettere che l'intestino sia più sano, ma anche che vengano difese di più la vagina e la vescica da quei germi che altrimenti, violando le barriere, entrano nel nostro corpo e vanno poi a infettare organi preziosi per la nostra salute. Quindi lo xiloglucano estratto dal tamarindo è una molecola innovativa perché va a rinforzare in maniera assolutamente impeccabile e anche in punta di piedi vorrei dire l'integrità della funzione mucosa e in particolare della funzione mucosa della parete intestinale.